In questo ultimo articolo vediamo che se la madre è sottoposta a stress durante la gravidanza, se beve alcol, se fuma, oppure se è esposta a tossine che attraverso l'alimentazione le entrano nel organismo, se la madre ad esempio ha un'infezione virale non diagnosticata. Se ha una borreliosi di Lyme, un morbo di Lyme, è estremamente probabile che il bambino soffra di asma a causa delle conseguenze epigenetiche. Quello che questo articolo non dice è che forse l'asma guarisce quando il figlio ha raggiunto 14-15 anni di vita, ma quando avrà 25, avrà i propri figli. Questi figli hanno disturbi di apprendimento, iperattività, asma grave, allergie alimentari e poi quando crescono a loro volta, 25-30 anni, hanno spossatezza cronica, hanno fibromialgie oppure altre patologie. Molti di voi qui rappresentano questa generazione e quando voi avete figli saranno ancora più i figli che avranno ancora più malattie. Il mio suggerimento è quando la madre ha un'infezione cronica prima della nascita, prima del parto ovviamente, per esempio molte madri oggi hanno una borreliosi cronica non diagnosticata oppure hanno un'infezione virale, sempre non diagnosticata. Ecco, questi bambini hanno dei costanti cambiamenti neurologici e dello sviluppo a livello neurologico. Si hanno dei disturbi mentali essenzialmente. Molti di voi sono questi figli, rappresentate questi figli, anch'io, io compreso. L'altro articolo indica se un feto è stressato nel grembo materno, questo bambino quando raggiungerà l'età di 50-60 avrà una probabilità molto maggiore di avere un infarto oppure un ictus oppure delle patologie degenerative. Molti di voi rappresentano proprio questi bambini o i vostri genitori. Giori appunto sono questi danni epigenetici in noi e tanto più dobbiamo fare. Possiamo lavorarci contro con una buona alimentazione, con diverse vitamine, facendo sport, evitando inquinanti e contaminanti ambientali e con il lavoro delle costellazioni. E vi faccio ancora una volta vedere come funziona la biologia. Con la contaminazione della terra e l'inquinamento della terra appunto anche noi veniamo contaminati attraverso i meccanismi epigenetici. Noi diventiamo sempre su sensibili a dosi sempre minori di tossine, di contaminanti fino a quando non ce la facciamo più. E il bello di tutto questo è che quando non ce la facciamo più ci sarà appunto la volontà politica di cambiare qualcosa. Io ho tanta fiducia in questo, cioè che noi come razza, appunto come genere, sopravvivremo e che le cose possano continuare bene. Conoscendo le persone che sono responsabili delle guerre, le persone appunto in campo agrario, nel business agrario, che ci contaminano i suoli, quelli dell'industria della comunicazione che scelgono appunto le frequenze che sono estremamente dannose per noi, sono gli stessi piccoli gruppi appunto che sono dietro a questo. Io credo che come persone appunto, che la maggior parte di noi sono buoni come esseri umani, ma la resistenza deve venire da noi. I nostri politici sono troppo stupidi, oppure troppo corrotti. Cioè, questo perché la maggior parte di noi appunto deve svegliarsi, dove la conoscenza sul grande danno ambientale non è così diffuso. Io ho appunto questa sfortuna, devo dire appunto, che molti scienziati sono i miei pazienti, che mi forniscono queste conoscenze. Vorrei ribadire che esistono tre stadi dello sviluppo. Il primo è quello della nostra innocenza, della nostra naiv... Siamo naiv, siamo innocenti, facciamo affidamento sul fatto che il mondo è buono in linea di principio. Poi c'è lo stadio numero due, dove appunto vediamo appunto la corruzione, le cose cattive appunto nel mondo e rispondiamo con la stessa ampiezza di cattiveria. Oppure siamo arrabbiati. Oppure ci sentiamo impotenti. Oppure ci rifiutiamo di guardare. E questa è la reazione più frequente, insomma, guardiamo altrove. E poi c'è lo stadio successivo, dove possiamo affrontare quello che deve essere cambiato, quello che appunto non va bene così, senza emozioni. E in questa fase appunto abbiamo la possibilità di agire. Adesso vi faccio vedere alcune cose che mi stanno particolarmente a cuore. E noi abbiamo potuto riscontrare questo. La quantità di veleno e di contaminanti appunto nel nostro corpo ho sicuramente speso più di mezzo milione di dollari appunto di prove in laboratorio per trovare questo numero, questa cifra. E oggi sappiamo che troviamo appunto nel corpo più di 82.000 agenti contaminanti. E l'80% di questa quantità di contaminanti è nella loro, come dire, capacità tossica. E quindi l'80% riguarda due sostanze appunto. Uno è l'alluminio. E il secondo è il glifosfato. È un erbicida che viene prodotto da miei amici negli Stati Uniti appunto e che è in commercio da 50 anni. E in quasi tutti i paesi occidentali è il principale veleno che viene irrorato appunto nei campi. È un diserbante. E da questo insomma in qualche modo abbiamo la possibilità di proteggerci. Se lo sappiamo. Ma c'è un altro veleno appunto un altro contaminante che è l'alluminio appunto e da cui non ci possiamo proteggere. E qui appunto si vede chiaramente a livello medico che l'autismo è causato appunto principalmente dall'alluminio che viene trasmesso dalla madre al figlio. E poi i bambini vengono ulteriormente esposti all'alluminio che viene iniettato tra... E ho detto in precedenza appunto c'è che c'è un enorme appunto aumento delle patologie neurologiche. Questo articolo mostra appunto che l'alluminio ha un ruolo particolarmente importante in questo aumento di patologie neurologiche e la loro crescita. Il principale appunto sintomo il primo sintomo è la perdita della memoria e oserei dire che questo riguarda tutti tutti voi o tutti noi. Non appena lo sai puoi far qualcosa contro. Ma se non lo sai abbiamo una ricerca di un professore in Inghilterra che voleva sapere perché viene usato l'alluminio e quali ricerche sono state fatte sulla sicurezza e la sua risposta è appunto non ci sono studi che sono stati fatti. Di quello di cui parlo è appunto il sangue viene prelevato da un braccio viene filtrato e poi viene reiniettato nell'altro braccio e nel materiale filtrato appunto i contaminanti contenuti nel sangue si densificano si concentrano per cui è più facile documentarne la presenza e alla fine c'è questo piccolo sacchetto e qui che contiene tutte queste tossine si apre cioè l'odore è quello di cose che talvolta ti porta a casa il cane e quello che abbiamo constatato tramite questo metodo vediamo il valore dell'alluminio i 120 microgrammi litro e qui i valori del piombo vedete che il tasso di alluminio è 140 volte superiore rispetto al tasso di piombo e abbiamo calcolato su più di 200 pazienti che l'alluminio la concentrazione di alluminio è 94 volte superiore in noi 94 volte in più rispetto alla tossina successiva a quella più importante alla successiva e perché questo non è noto dei laboratori americani che fanno dei test appunto sull'alluminio che ricevono una lettera del governo se non smettete subito chiudiamo il vostro laboratorio e non so com'è la situazione qui in Germania ma sicuramente è una cosa molto simile gli americani non hanno mai sottoscritto e firmato un trattato di pace con la Germania e ogni legge ogni misura appunto in Germania ecco c'è la possibilità che il governo americano ci metta il veto la maggior parte di voi questo non lo sanno ma gli americani sono molto orgogliosi di questo e io l'ho saputo solo attraverso dai miei colleghi americani l'importante per quello che adesso intendo parlare è che lo spazio aereo sulla sulla Germania è territorio americano qui vediamo in questo aereo adesso vediamo appunto la provenienza dell'alluminio questo vale per coloro che non sono vaccinati coloro di noi che non sono vaccinati qui queste sono le strisce tipiche che si formano appunto dietro agli aerei ed è non è non è dietro appunto le turbine e cioè esce dai lati mentre invece il vapore normale viene direttamente dalle turbine viene dai motori e questo appunto questo vapore appunto che viene fuori dalle turbine evapora dopo 30 secondi e oggi vediamo quasi sempre che le strisce rimangono e si diffondano lentamente e creano appunto questa questa striscia questa coperta quasi grigia questo sopra berlino ecco i miei pazienti dei servizi segreti americani mi hanno detto che non sarebbe stato possibile appunto intercettare il telefono di Angela Merkel senza questo cioè questi sono composti di alluminio questo fa sì che sul cielo ci sia una coperta metallica uno strato metallico e l'idea l'idea originaria è che si sia una specie di antisole una specie di controllo del clima qui da qualche parte lungo il Danubio qui si vede molto chiaramente che si deve trattare di voli di linea poi vediamo queste formazioni molto innaturali di nubi vediamo queste onde pulsate anche i cinesi ci sono questa da qualche parte in Francia e qui vicino a noi questo è il Goldgate il ponte queste sono immagini che abbiamo avuto da Boeing che montano appunto questi serbatoi aerei e la stessa azienda produce i liquidi gli inseticidi gli erbicidi eccetera purtroppo non posso citare il nome ma e dunque la tecnologia nel complesso si chiama geo ingegneria beh se questo è vero insomma ci dovrebbe essere dell'alluminio che ci viene irrorato sopra la testa e abbiamo finanziato appunto delle misurazioni nella nella pioggia e là sopra vediamo appunto il valore degli Stati Uniti che è di 0,5 microgrammi per litro microgrammi l'autorità appunto della salute americana dice se il valore è superiore allora appunto la popolazione deve essere avvisata e la pioggia appunto dopo questa irrorazione nel cielo questo valore è 2.000 volte superiore alla soglia istituita dalla Fed e niente avvertimento la popolazione qua il valore è 7 volte superiore rispetto a quella soglia massima messa beh io ho incontrato questo 5 anni fa perché eravamo a sciare nella selva nera nella foresta nera non selva nera foresta nera cioè è una una regione dove io ho lavorato da giovane medico Feldberg si chiama questa montagna e lavoravo appunto come come medico sulle piste e gli impianti perché conosceva conosco molto bene il clima di quel luogo 40 anni fa siamo andati a sciare bellissimo cielo blu poi questi grandi aerei enormi che facevano queste linee e poi si formava questa copertura bianca e con le versioni termiche questo strato si abbassava e abbiamo dovuto tutti dovevamo tossire mal di testa e ci siamo ritirati nel nostro albergo notando che che anche molte altre persone appunto hanno lasciato abbandonato le piste benché la neve fosse fantastica e io ho raccolto questa neve e nella neve c'era più alluminio che neve questo nella foresta nera poi abbiamo fatto delle misurazioni del suolo e abbiamo visto che ci sono enormi quantità di alluminio in terra nel suolo e quindi anche nell'erba abbiamo fatto questa misurazione in Norvegia dove appunto ci sono le vacche davanti ai pascoli sono davanti appunto sono davanti a questi pascoli sapidi e muoiono di fame davanti a questi pascoli per cui gli agricoltori norvegesi appunto sono costretti a importare il fieno adesso non qualcosa appunto anche la bibliografia è la cosa maggiore più importante che l'alluminio appunto produce infiammazione in tutti i vasi sanguigni che abbiamo si infiammazione ovviamente produce questa sedimentazione di nanoparticelle di alluminio